Promuovere l'inserimento lavorativo dei migranti, in particolare nel settore edile, è questo l'obiettivo del protocollo d'intesa stipulato tra Prefettura di Sernia, Acem, Ance e Molise, Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti di Sernia e Sindacati, una vera e propria filiera per favorire l'incontro tra domanda e offerta con la Prefettura che coinvolgerà i centri di prima e seconda accoglienza, l'Ance che si occuperà di coinvolgere gli imprenditori e il CPA e la Scuola Edile che si occuperanno di formazione. I sindacati poi avranno un ruolo fondamentale per promuovere il rispetto delle norme in materie antinfortunistiche per quel che concerne i diritti e doveri del lavoratore, un accordo insomma che parte dal mondo del lavoro ma che mira a migliorare le condizioni socio-economiche dei richiedenti asilo. Favorire il matching domanda e offerta e si va a inquadrare in iniziative di più ampio respiro perché attraverso la sensibilizzazione dei migranti che sono ospiti dei centri di accoglienza straordinaria gestiti dalla Prefettura e che sono ospiti dei SAI che sono gestiti dagli enti locali si favoriscono dei percorsi virtuosi di formazione per i nostri migranti e soprattutto si sollevano da eventuali interessi del caporalato o del lavoro nero. Quindi per questo dico di più ampio respiro perché nel momento in cui andiamo a istituzionalizzare dei percorsi, andiamo a formare del personale con le scuole edile che vengono sensibilizzate, andiamo a creare dei percorsi per l'apprendimento della lingua italiana, noi in questo modo andiamo a favorire l'ingresso di personale qualificato nel mondo del lavoro. La richiesta di mano d'opera nel settore dell'edilizia di certo non manca, il coinvolgimento dei richiedenti asilo è un'opportunità anche per le stesse aziende, la seconda fase prevede anche percorsi formativi di specializzazione. L'impegno nostro è quello di diffondere attraverso l'associazione, attraverso i nostri mezzi, alle imprese associate la possibilità successivamente di prendere nel proprio organico questi ragazzi formati.